Negli ultimi anni sono arrivati diversi nuovi farmaci per il trattamento della psoriasi. Uno di questi è l'anticorpo monoclonale Ixekizumab, sul quale sono stati presentati i nuovi dati qui al Congresso Mondiale di Dermatologia in Corsa Milano. Noi ne parliamo con un esperto, il dottor Andrea Conti. Dottor Conti, quindi che cos'è Ixekizumab e come agisce? Ixekizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato che agisce selettivamente contro l'interleuchina 17A, che è uno dei cardini nella patogenesi della psoriasi. È una delle nuove citochine individuate e molto importante per quanto riguarda la cascata patogenetica della malattia psoriasica. A quale paziente è destinato in particolare? Come tutti i farmaci biologici è destinato a pazienti che presentano una psoriasi da moderata a severa, ovvero con un PASI, un BSA maggiore di 10 e con un impatto negativo sulla qualità di vita che si misura con l'ILQA e che deve essere maggiore di 10. Inoltre è indirizzato proprio in quei pazienti che hanno fallito almeno una delle terapie sistemiche convenzionali. A questo congresso mondiale sono presentate diverse novità su questo farmaco. Di che cosa si tratta? Innanzitutto sono presenti diversi studi, i più importanti sono senz'altro quelli che riguardano la persistenza nel trattamento, quindi il retention rate del farmaco nel corso del tempo, ma soprattutto sono presentati i dati a 5 anni per quanto riguarda l'efficacia in termini di PASI 90, di PASI 75 e anche di PASI 100, che mantengono sostanzialmente quelli che sono i livelli degli studi registratori. Ovvero un PASI 75 che è ancora considerato il target principale per valutare l'efficacia terapeutica che interessa ben 9 pazienti su 10, si arriva a un PASI 90 in ben 7 pazienti su 10 e circa la metà dei pazienti mantiene una remissione completa della terapia anche a 5 anni. Inoltre sono presenti altri dati su switch, ovvero su passaggi da molecole anti-interleuchina 17A, come ad esempio da Secukinumab ad Ixekizumab, con un mantenimento dell'efficacia clinica. Questo farmaco è disponibile in Italia dal novembre 2017. Che bilancio si può fare di questi primi due anni di impiego nella pratica clinica? Senz'altro è un farmaco che ha mostrato una notevole efficacia e i risultati anche nella real life si allineano sostanzialmente su quelli che sono i dati registrativi. Pertanto sostanzialmente una elevata efficacia e una rapidità d'azione e soprattutto un notevole dato di sicurezza sono sostanzialmente i cardini che possono definire meglio quello che può essere la tipologia del farmaco stesso.